Le tolse il vestito lentamente, poi la distese sulle piastrelle del pavimento caldo e sempre lasciando scorrere la doccia cominciò a baciarla su tutto il corpo. Le sue possenti mani la sollevarono e la girarono con delicatezza e lei non sentiva più né la durezza del pavimento né le sue dita forti saldamente piantate sui suoi fianchi e si rilassò completamente e mise le sue gambe sulle spalle di lui. L'acqua della doccia la colpiva migliaia di volte delicatamente sul viso, sul ventre, sul seno. Lui la leccò con regolarità, il suo sesso divenne una superficie erosa da cui grondava il piacere. Il mondo scomparve, lei non era nient'altro più che quella carne viva.